L'inquinamento atmosferico è ovviamente un problema per la salute dei grandi, anche dei bambini e anche abbastanza ovviamente è un problema soprattutto per la salute respiratoria, perché le particelle di inquinanti entrano direttamente nelle vie aeree. Sostanzialmente ci sono due problemi, un problema di reazioni acute dell'organismo e della parte respiratoria ai picchi acuti di inquinamento, che vuol dire aumento di probabilità di avere delle infezioni respiratorie come le otiti, le bronchioliti, le polmoniti, questo anche nei bambini molto piccoli. E soprattutto nei bambini predisposti all'asma un aumento degli attacchi di asma bronchiale. Questo si sa da molto tempo ed è stato provato con gli accessi in pronto soccorso, gli accessi ai pediatri di famiglia. Da meno tempo, perché ci vuole più tempo per fare questi studi, si sa che l'inquinamento soprattutto precoce, l'esposizione precoce a inquinamento, che vuol dire persino dalla gravidanza o nei primi mesi e anni di vita, può comportare un aumento dell'incidenza di casi di asma e un peggioramento della funzionalità polmonare, perché le vie aeree che sono in formazione, diciamo, si formano bene o bene o comunque rimangono un pochino più piccole. Questo è ovviamente un problema che uno si può portare dietro tutta la vita, sicuramente ci sono dati fino all'età adolescenziale, ma anche fino all'età adulta. Diciamo che la buona notizia è anche che se in casi in cui è stata cambiata l'abitazione, se andate ad abitare in zone meno inquinate, questi problemi si sono risolti o comunque sono diminuiti. E questo è stato provato sia negli Stati Uniti, California, sono studiati tanti anni fa, ma anche in Nord Europa. Questo è importante perché in Nord Europa ci sono dei bassi livelli di inquinamento e quindi vuol dire che il danno può essere possibile anche per livelli di inquinanti più bassi di quelli che sono i limiti europei, anche i limiti dell'OMS. Grazie.